Yunus Musa ha rilasciato un'intervista a The Athletic, per parlare della nuova stagione che inizierà questa sera con Milan Torino, di seguito alcuni estratti delle parole del centrocampista rosso-nero, Ibrahimovic, c'è bello, viene a parlare con noi, è un grande mentore, tutti sanno com'è, è esigente e ti spinge, dice, siamo al Milan, dobbiamo vincere, non è abbastanza vincere alcune partite e non altre, tutti vogliono venire in questo club, quindi non abbiamo la garanzia di avere una posizione qui, cose come queste, ti tengono sulle spine, mi piacerebbe giocare così tante partite, essere davvero coinvolto, segnare gol, tutte cose belle, ogni stagione, inizi con ambizioni e cose su cui vuoi migliorare, voglio anche i titoli, Fonseca, e sono un sacco di informazioni, sto imparando molto, mi sta aiutando con la forma del mio corpo, a ricevere la palla, a stabilire connessioni con i difensori centrali, semplicemente aiutandomi a essere in grado di giocare con la palla come centrocampista, a prenderla, a passarla, mi vedo qui questa stagione, il manager non mi ha cacciato fuori, dice ridendo, quindi resterò qui e voglio lavorare sodo per giocare molte partite ed essere davvero d'impatto.